Grillo era riuscito a dribblare i giornalisti nel fine settimana, lunedì pomeriggio c'era stato il parapiglia all'uscita dell'assemblea dei parlamentari, oggi quelle immagini, le fasi concitate, le ha postate sul suo blog con il titolo Attenti ai lupi. I lupi per Grillo sono i giornalisti al soldo dei partiti che come in Zanna Bianca attirano i simpatizzanti a 5 Stelle per sbranarli, sputtanarli. Sono scene da delirio, scrive sul blog, un vilipendio continuo e un'aggressione anche fisica. Il portavoce del movimento torna a denunciare la manipolazione televisiva, ricostruisce l'apparizione a canale 5 di un militante a 5 Stelle, peccato che si fosse iscritto al movimento solo il giorno delle elezioni. Io ti invito qua in studio a parlarne tutto il tempo che tu vuoi, guarda, a meno che qualcuno poi non ti dica che non puoi più andare, non puoi più apparire. Taroccamento mediatico, le sette sorellastre televisive fanno propaganda, continua Grillo. Occorre una riforma del sistema con una sola rete pubblica alla RAI e la revisione delle concessioni televisive alle private. Per evitare interviste a finti grillini, gli unici titolari a parlare d'ora in poi saranno i due portavoce, Crimi e Lombardi. Grillo ormai risponde solo alle domande della stampa estera e oggi su Time ripete il nostro movimento incanala la rabbia in un progetto di speranza. Evitando la violenza, ma se falliamo la violenza potrebbe esplodere.